Gioani, mi sono cansato di fare l'ambra di usare un po' di spazio e ora mi chiamo un mio amico di me, per aiutare a me sottolineare Cosa amico? Non vuoi che sei Tieni dici, bocca santa è responsabile A ora per arrivare l'ambra di usare basta andare a limpi in alcun punto di venda di AVF Paints e andare a cercare la piazza di chi per ottenere un articolo utile La entrega di l'ambra di usare l'ambra potrebbe essere un lotto per partecipare in rifa per il premio di turluna e noi stiamo apportando la cuida al nostro medio ambiente Interessante E in fin di anno, noi programmo passaggi e we can stay in abonello E io ando con nota di AVF ora Doshi, posso sempre da AVF Paints mi da cumpra?